Eccomi con una bellissima coppia artistica e anche nonna, ecco qua perciò vi trovo con Giuseppe Gozzolino e Luana Desposito, Danza Zice del Sventre e salutiamo tutti i vostri fan, amici e amiche. Un bacione a tutti i ragazzi. Ecco qui la mania lui già l'ha avuta, ecco qua e noi vi salutiamo.